Johnny Cage, l'ammuletto! Goditi la nuova casa, nonno. Sonia! Johnny... L'abbiamo... Sì, è nostro. Non restate qui. Le proprietà della camera cureranno velocemente, Sonia Blade. Quan Chi e gli altri sono andati. Un'ondata di energia nella camera ha sovraccaricato i miei sensi. Possiamo occuparci di Quan Chi più tardi, Quan Chi. Oggi abbiamo una ricompensa maggiore. L'amuleto di Shinnok è al suo interno. Il vecchio faccia di pesce. Dobbiamo portare l'amuleto agli dei anziani. Non possono distruggerlo. Nessuno può farlo. Ci daranno dei consigli. Shinnok non potrà mai fuggire. La guerra non è finita. Quan Chi è riuscito a fuggire. Perché sorridete? Mi ha chiamato Johnny. Non è finita. Mi ha chiamato che discendo da una specie di culto guerriero del Mediterraneo. Allevato come guerriero per gli dèi. Non sono più riuscito a evocare quell'aura verde. L'avevo attivata quando ho visto morire qualcuno che amavo. E invece tu, Cassie, puoi evocare una cosa del genere? O è saltata una generazione? Falla finita, Gin. Non c'è servita l'aura in Darfur. O in Iran. O in Kurdistan. Sbaglio, Jackie? No, non sbagli. I monaci ti ci hanno mai mandato, Gin? Ne abbiamo vista di azione. Sia io che Takeda. Roba che voi delle forze speciali non avete... Riposo. Siete tutti qui perché ve lo meritate. Ognuno di voi è unico e perfetto. Ora, come di sicuro non sapete, dato che non vedo bigliettini d'auguri, oggi la nostra squadra festeggia ben sei settimane. Il segretario Blake è contento dei nostri progressi. Anche se gli sputi in testa è contento dei nostri progressi. È grazie a lui che il signor Cage ha formato questa squadra. Per fortuna lo Shirai Rio ha scelto me. Posti nuovi, nuove facce. Come il segretario ha evidenziato, un giorno noi vecchi eleve dovremo andare in pensione. Quindi è il momento che la vostra generazione si faccia avanti. Shaolin, Shirai Ryu, FS, tutti insieme. Per la prima missione della squadra dovrete recarvi al Tempio Lin Kuei. Da un po' non abbiamo notizie del Gran Maestro. Accertatevi che sia ancora dalla nostra parte, che ci copra le spalle se le cose si mettono male, col Regno Esterno. Dovete portarlo con voi, ma non siate sorpresi se Sub-Zero non avrà voglia di collaborare. Ti preoccupa il Regno Esterno? Kotal Kahn non rispettava gli accordi di Reiko. Li rispetta, ma sta affrontando una guerra civile. Se i ribelli vincono, gli accordi verranno dimenticati. 20 milioni. Imperatore, conosce l'espressione il gioco non vale la candela? Kotal Kahn ha sempre contrattato con te in maniera onesta, Kano. Certo, certo. Dico soltanto armi potenziate, le mie spie, e puff, la lunga guerra civile del Regno Esterno. Finita. Non sarebbe male rilassarsi un po', no? Tu conosci la posizione di Milina. E tutta la sua armata di ribelli. Direi che il gioco vale almeno 50. Non mi resta che attaccarla. Immediatamente. Il conflitto va concluso. Come dite voi, ci sta prosciugando. Bene. Abbiamo un accordo? Cosa c'è, Duora? L'imperatore non dovrebbe preoccuparsene. Incidente è in arrivo. Ci penserà a questo essere. Fate largo a Kotal Kahn! Spostatevi! I Tarkatan sono in posizione. Attendiamo un tuo ordine. Già dato, carissima Tania. Fermare una carrozza non è nulla, ma uccidere un imperatore... Falso imperatore! Richiede potere. Potere che tu hai, Milina. E che non vuoi utilizzare. Usarlo mi causa dolore, Rain. Ho bisogno di più tempo. L'incursione dell'usurpatore è giunta troppo presto. La pioggia cade quando può cadere. Nessun problema. Se Cano fa quello per cui l'ho pagato. Ora! Fallo! Oh! Braggh! Brazzare, fuggli! Vagta tocnore Parolesante Parolesante Tu mi ferisci, Kano La tua offerta di aiuto era soltanto fumo negli occhi Tieniti i tuoi 50 milioni Milina mi ha promesso il doppio per toglierti di mezzo Non mi fai paura Non mi fai paura Non mi fai paura Non mi fai paura Nobili o labbra in tutti la mano, la morte coglie tutto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Milena mi ha promesso il doppio per toglierti di mezzo. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Milena mi ha promesso il doppio per toglierti di mezzo. Grazie per la visione! 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 Tu non vali lo sporco sotto le mie scarpe! Grazie per la visione! 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 Ti stai innamorando? La tua ribellione è l'unica cosa che lo impedisce La tua ribellione è l'unica cosa che lo impedisce Il tuo sacrificio mi onora Non toccarmi di nuovo Non toccarmi di nuovo Non toccarmi di nuovo La tua ribellione è l'unica cosa che lo impedisce Non toccarmi di nuovo Non toccarmi di nuovo